Si evince facilmente questo, questo, si evince facilmente, libero, questo, poi lui viene qua, il mio centro del corpo è qua, dunque qua tecnica, tanti di voi, tanti di voi invece, da quel giaco, fanno qua, non esiste, capite, non è verità, da qua lui viene, questo, scusa Marco, se io faccio qua, poi ancora, fine per me, lui viene, questo, sempre l'idea di carattere, ogni volta che sono dentro il mio corpo, io perdo se non sono di profilo e proiettato verso di lui, questo, ok, quando lui viene, quando lui viene, esatto, quando lui viene verso di me, questo, io vado verso di lui, ma siccome sono attaccato, devo trovare una figura stretta e quindi mi raccoglio ancora di più come corpo e schiaccio, questo è, da qua, questo, schiaccio, questo, e ci, mi, san, si, da qua, non pensate solo figura, no, questo, che rit, che rit, che rit, che rit, pam, pam, no, metto il braccio alto, così, proprio, energia, hai, forza dai ragazzi, il braccio prende forza, girati verso di me, vedete, esatto, quando io lo metto in tensione, io devo sempre stare dalla parte della schiena, così, lui prova, se non ce la può fare, sono io che lo gestisco, appena giro verso il suo centro, lui prende forza, gira, e prende forza, dunque sempre verso le spalle, e tirare su, tirare su, e poi fa, no, scherzato, poi, questo, provare ancora, per esempio, hit, e adesso come chiunque mi fa, no, scherzato, palla, e ginocchio, non solo questo, poi, pan, su, diverso di gestione, tiro, colpisco, cambio braccio, molto importante, cambiare, non solo fissarsi, tiro, 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 giù, un attimo, pan, giudo, poi, sperimento, sotto, sempre strecci, ok, bene, 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 bene,